L'altra cosa devo dire, siamo pronti al palmetto solido che al palmetto solido e al palmetto solido. Qui ci potremo avere le capsule del bike a destina. Vedremo anche la parte resistente della pittura che possiamo vedere come stavamo facendo prima. E' anche filmato quello che hai finato. Potremmo metterlo anche sulla spalla. Ok, adesso è stato tagliato. Allora, cos'è la tavosinata? Li hai finito. Eh, dove sono? Ah, come nel mio balloons? Si uscire il barco, si due. Vediamo il barco, ci sono già abtorci. Oh, sì, abbiamo rimanato dal gianatrice. No, ora siamo trasparenti. Voi iniziare? la tavola spinale è l'unico prestigio che voi avete per immobilizzare totalmente una persona siete leggermente storti però dovete essere sincronizzati su questo movimento mentre scende dovete iniziare a spingere in questa maniera d'accordo e lui si spinalizza adesso pochissimo siamo di farla secondo di tenere linealità a zero punto quando sarei a 90 gradi lui avrà già la posizione neutra dopo di che invece dovrai girare comanda e 2 3 benissimo e la sua eccoli 1 2 3 via siamo siamo 10 volte bene perfetto sotto la maglia mi raccomando via e lo passiamo passate via la maglia benissimo e vedete che vi rimane lo spazio per vedere qua giù la tracchetta e anche pescare il polso d'accordo? e poi dovete vedere la posizione neutra è guarda davanti a sé e non guarda né a destra né a sinistra e davanti né indietro d'accordo? e l'orecchio dovrebbe essere più o meno alla testa del muscolo della spalla questo osso scendete contro questo fascio di nervi e tornate leggermente indietro in questa fossetta trovate il vantido uno sul fascino regolate anche le mani poi li rimettete sempre la cintura siete pronti? 1 2 3 su stop al mio 3 giù 1 2 3 non è neanche andato male per la prima volta hai visto come ti è andato avanti a terra? guarda qua qua sopra questo va il tonace questo va solo il calcino questo va il calcino l'ho risotto prima parlatevi ok così almeno non cade ma se anche lo mollo qua non mi si mola tutto chi va sopra? tirate tutte? l'altra per la mano prima su quell'altra bravo bravo viva perché tira solo una sopra perché usa la stessa forza no? bene adesso l'altra avvicina 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 più o meno i fori sono all'altezza delle orecchie no? si benissimo fionde tieni sempre questo qua al centro tirate due o meno uguali e bloccatelo perfetto? bene adesso possiamo molare le mani ci siamo? come ti senti? bravi usate le gambe 1 2 3 su ecco vedete che è no ma no pare che l'ha provata visto che è pulito quindi che non ha ferito e non ha niente all'algo queste andiamo a sfidarlo ok basta cos'è che comanda l'altezza di questo? mentre prima si buttava tutto dentro comanda la testa immagino è l'unica il casco ok tu è tutto il blocco della lama ah lo tieni è posto per volta l'abbiamo messo su come era già bloccato l'ho fatto io certo l'ha visto la prima l'altezza di questo l'altezza di questo l'altezza di questo l'altezza di questo l'altezza di questo